Astronauticast. Benvenuti all'episodio 23 della stagione 11 di Astronauticast, il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, cioè ISA. Oggi è il 15 marzo 2018 e se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter o magari usare la chat della diretta, del pair della diretta su YouTube. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso Nonno Apollo ai comandi di questa nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sullo spazio e non sono soltanto oggi nel ruolo di comandante ma anche nel ruolo di regista di backup del regista di backup delle nostre puntate perché siamo con un equipaggio più ridotto del solito, un equipaggio che chiamiamo in questi casi equipaggio Apollo perché siamo in tre. Con me a raccontarvi le ultime novità sullo spazio c'è anche Veronica Rimondini. Ciao a tutti da Veronica da Verona, benvenuti anche a questa nuova puntata ristretta. Ciao Veronica, la nostra social queen, salutiamo anche il timelapse master Riccardo Rossi. Buonasera a tutti, chi ci ascolta in diretta avrà notato che non abbiamo neanche le sì l'accompagnamento ma questo è una conseguenza dell'equipaggio ridotto però se chiudete gli occhi potete immaginare la musichina che è in sottofondo di cresso ma chi ci ascolta invece in versione download la puntata sarà sapientemente rimontata o almeno così speriamo dove l'esperienza sarà simile alle altre puntate che avete ascoltato. Nel frattempo comunque vi auguro tutti un buon ascolto di puntata. Questo episodio andrà in onda senza stacchi, senza sigle, senza contributi multimediali per la mancanza del personale tecnico di questa puntata ma appunto cercheremo di compensare raccontandovi qualcosa di interessante e in questa missione, in questa puntata parleremo di un futuro possibile spazioplano, del ritorno a terra di Robonaut e delle novità, delle ultime novità sul recupero, sui tentativi di contatto con la sonda Image. Parlavamo di questo nuovo possibile spazioplano perché sembra che l'aereo madre di Stratto Lounge, quello che sarà utilizzato per i futuri lanci aviotrasportati del lanciatore Pegasus XL potrebbe essere utilizzato anche in futuro per lanciare uno spazioplano riutilizzabile delle dimensioni addirittura di uno Space Shuttle. Se si è saputo in questi giorni stiamo parlando quindi della metà di marzo del 2018 quando il Washington Post ha pubblicato un'anticipazione di un libro di prossima uscita di un suo giornalista Christian Davenport che ha intervistato Paul Allen, il fondatore proprietario di Stratto Lounge, il quale ha detto al giornalista che gli piacerebbe avere un sistema completamente riutilizzabile, un sistema di lancio completamente riutilizzabile basato su uno spazioplano riutilizzabile e questa anticipazione è stata confermata poi anche successivamente da Stratto Lounge. Ricordiamo che Stratto Lounge è un'azienda fondata, un'azienda spaziale fondata da Paul Allen che è stato alcuni decenni fa cofondatore di Microsoft e che oggi come diversi altri imprenditori delle nuove tecnologie, del web, delle tecnologie informatiche, si dedica anche a attività imprenditoriali in campo spaziale. Attualmente Stratto Lounge sta costruendo un sistema di lancio aviotrasportato basato su un gigantesco aereo madre che si chiama Rock, è stato soprannominato Rock dal nome di una creatura mitologica, un grande uccello predatore della mitologia e che è un grande aereo a due fusoliere in mezzo al quale si trova l'ala, la grande ala con un'apertura di circa 117 metri e in mezzo alla quale poi saranno caricati i razzi, i lanciatori, i veicoli da lanciare. Questo gigantesco aereo ha una massa di circa 590 tonnellate e può portare un carico di circa 230 tonnellate. Per il momento questo aereo, anche se è stato costruito, ha fatto soltanto delle prove di taxi di movimento sulla pista ma il primo volo inaugurale è previsto per, il primo volo test è previsto per entro il 2018. I voli, quindi i lanci orbitali, sono previsti invece per l'anno successivo. Questo sistema di lancio prevede che l'aereo si alzi in volo, che porti il il razzo, il lanciatore, ha agganciato all'ala fino ad un'altitudine di circa 10.000 metri e poi lo sganci in modo che il razzo proceda autonomamente con i suoi motori inserendo in orbita un carico utile. E questo spazio plano di cui parla Paul Allen è attualmente solo nella fase di studio concettuale ma dovrebbe avere appunto le dimensioni di uno space shuttle, consentire missioni completamente automatiche di circa tre giorni e poi rientrare appunto atterrando su una pista per poter essere riutilizzato e compiere una missione successiva dopo circa una settimana. Quindi Paul Allen ipotizza un ritmo di utilizzo di questo sistema di lancio piuttosto serrato. In fondo è sempre stato il sogno anche dello spazio plano più conosciuto, o meglio di pianificatori di questo spazio plano più conosciuto, lo space shuttle, quello di poter effettuare delle missioni ogni paio di settimane in modo da rendere economicamente conveniente questo sistema. Non si è mai realizzata questa idea nella realtà ma è uno degli obiettivi che si pone Paul Allen con Strato Lounge per questo futuro possibile spazio plano. Ci sono un paio di ragioni per cui mi sembra importante questa notizia. La prima è che questa idea di Strato Lounge mostra un approccio diverso alla riusabilità rispetto ad altri protagonisti privati del settore spaziale. Pensiamo soprattutto a Elon Musk con SpaceX che si basa su razzi, cioè su sistemi di lancio più tradizionali, ma cerca di recuperarli innanzitutto il primo stadio e i gusci del fairing e poi in futuro anche gli stadi superiori. Il sistema di Strato Lounge e quindi del possibile futuro spazio plano si basa invece sul recupero di tutti i veicoli coinvolti in un lancio, quindi l'aeromadre che atterra subito dopo il lancio e il veicolo messo in orbita, quindi il possibile spazio plano che potrebbe rientrare come un aereo anche in questo caso. L'altra ragione per cui mi sembra importante e significativa questa notizia, anche se si tratta di piani soltanto possibili e comunque molto lontani anche se verranno realizzati, è che questo segna il ritorno dell'interesse per gli spazioplani che si pensava venissero ridimensionati nel futuro dell'esplorazione delle attività spaziali nell'ultimo decennio dopo i nuovi progetti privati anche della NASA basati tutti quanti sull'impiego di capsule e sistemi simili a capsule, sia nelle versioni con equipaggio, quindi innanzitutto la futura capsule a Dragon con equipaggio di SpaceX, sia quelle di altri produttori, per esempio lo Starliner oppure la stessa capsula Orion della NASA. Si pensava che se fossero passati in secondo piano gli spazioplani, ormai che dopo l'esperienza dello Space Shuttle si considerasse conclusa questa fase dell'esplorazione spaziale, ma ricomincia a esserci un nuovo interesse per questo tipo di veicoli, non soltanto da parte privata, quindi la Stratto Launch di Paul Allen, ma sembra che ci siano anche dei test che stanno effettuando i cinesi, che stanno effettuando l'ente spaziale cinese o comunque il programma spaziale cinese su uno spazio piano, comunque veicoli capaci di andare nello spazio e volare nell'atmosfera. E' una notizia da seguire con attenzione. C'è una domanda dalla chat, ho capito bene? Sì, chiedevano se è supersonico. Quale, l'aeromadre o lo spazio plano? Quale, Danilo? L'aeromadre o lo spazio plano? No, immagino l'aeroplano. No, l'aeromadre è improbabile che sia supersonico, sarebbe davvero difficile, secondo me, mantenere l'integrità strutturale di un bestione da 600 tonnellate con quella forma e con quella struttura, mantenere la stabilità, oltretutto con un carico del genere, ricordiamo che è previsto che possa portare fino a circa 200 tonnellate, insomma, è molto difficile. Sto trasmettendo... Dimmi, vai pure Paolo. Credo che sia anche inutile avere un aeromadre supersonico, perché subito dopo lo sgancio, il sistema di lancio, per esempio il Pegasus XL, nella prima fase dell'impiego di questo veicolo, o un futuro spazio plano, raggiungerà comunque autonomamente questa fase di volo per raggiungere l'orbita. Quindi credo che sia tecnicamente difficile e inutile. Stiamo considerando un aeromadre di dimensioni gigantesche che potrebbe lanciare uno spazio plano anch'esso di dimensioni gigantesche, ma una situazione simile nella storia dell'esplorazione spaziale, una serie di veicoli simili, ci sono già stati. Chiedo a voi, e così, se ricordate nella storia dell'esplorazione spaziale qualche situazione di lancio simile, perché è interessante ricordarlo dal punto di vista storico. Vi viene in mente qualcosa? Qualcosa delle dimensioni dello Space Shuttle, che viene lanciato da un aereo? Ecco, mi fai... Vi interrogo in diretta. E' un'occasione per ricordare un precedente storico interessante. Un X qualcosa, forse, no? No, neanche un aereo sperimentale, uno spazio plano sperimentale. I 747 SCA per il trasporto. Esatto, esatto. Pensavo a quello. Pensavo alla campagna di voli di test atmosferici dello stesso Space Shuttle con l'Enterprise, la navetta che venne progettata per questi test e che non venne poi adattata per il volo orbitale, che in una campagna di cinque voli planati nella seconda metà degli anni 70, venne sganciata dall'aereo madre, che era un Boeing 747, che poi compì le ultime fasi di avvicinamento alla pista e di atterraggio in questi voli pilotati. Anche in quel caso, quindi, si trattò di un utilizzo di un sistema di rilascio, questa volta di uno spazio plano, non quindi di lancio per traiettorie, per altitudini orbitali, ma comunque dal punto di vista ingegneristico, era un autico sicuramente un'impresa importante e da ricordare. Quindi aerei di quelle dimensioni hanno già volato e rilasciando carichi utili addirittura di quell'ordine di grandezza. Quindi non si tratta di un salto tecnologico così grande come si possa pensare. Certo, poi la sfida di avere uno spazio plano che da un'altitudine di circa 10.000 metri riesce a raggiungere l'orbita, quindi si tratterebbe quasi di un veicolo single stage to orbit. C'è ancora molto lavoro da fare, ma è una ragione in più per cui è interessante seguire questo futuro progetto. Sempre riguardo questa cosa, per farvi capire che non c'è poi così tanto balzo tecnologico, chiaramente prendete con le molle questa mia affermazione, è che lo stesso ROC, cioè l'aereo di cui abbiamo parlato prima, utilizza come motori, sei motori di un 747. non è che sia stato creato un propulsore particolare o qualcosa di esotico per questo tipo di velivolo, è solo così estremamente sovradimensionato per poter caricare appunto dei carichi molto molto pesanti. Strato Lounge aveva acquistato anche due Boeing 747 da cannibalizzare, da utilizzare per prelevare alcune parti, non soltanto i motori, come dice, come ricordavi, ma anche per esempio i carrelli, l'avionica, alcune parti dell'abitacolo, insomma, si utilizzano tecnologie esistenti per ottenere qualcosa di nuovo e anche questo è una parte dell'approccio alla riusabilità e quindi una ragione in più per seguire questo progetto, questi giganti del volo. Ricordiamo che in questi test di volo planato dello Space Shuttle della fine degli anni 70, il volo totale della navetta Enterprise sganciata dal 747 che si chiamava Shuttle Carrier Aircraft duravano circa tre minuti, quindi dal rilascio all'atterraggio sulla pista. Questo Boeing 747 è stato riutilizzato in seguito poi per i decenni del programma Shuttle per trasportare gli Shuttle una volta atterrati dalla pista dove atterravano poi fino al Kennedy Space Center per riprepararli alle missioni successivi, quindi anche come aerei di trasporto. Ma guarda qui, mi avete fatto venire in mente parlando di questi aerei particolari anche l'osservatorio Sofia, 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 quello della NASA che ha all'interno una serie di rilevatori e anche lui è un 747. Certo. Probabilmente è particolarmente adatto il 747 ad essere rivisitato in tutti questi modi. Si tratta di un progetto a congiunto tra la NASA e la DLR, l'Agenzia Spaziale Tedesca, in cui è stato montato un telescopio infrarosso a bordo di questo Boeing 747, un telescopio peraltro di dimensioni medio-grande rispetto a quelli fissi a terra, ha un diametro allo specchio, se non ricordo male, di 2 metri e 40 centimetri, quindi una delle ragioni per usare un 747 proprio la dimensione che un telescopio di quelle dimensioni richiede una carlinga piuttosto grande per poter essere ospitato e alloggiato e naturalmente la potenza di un aereo di quel genere per trasportarlo in volo e utilizzarlo dalle quote della stratosfera per tenere sotto di sé la buona parte degli strati densi dell'atmosfera e quindi soprattutto rendere favorevoli le osservazioni all'infrarosso che si possono fare con uno strumento di quel tipo. Quindi molto versatile per l'astronomia e lo spazio il Boeing 747 che ha una lunga storia di aiuto alle tecnologie astronomiche e spaziali. E una delle ragioni per cui può essere interessante usare uno spazioplano in missioni spaziali è la versatilità del veicolo. Nel caso dello Space Shuttle poteva riportare a terra dei carichi oltre che portarli in orbita, è possibile che forse quello dello Stratolunch, a cui pensa Stratolunch, possa essere utilizzato per missioni simi. Per il momento, per riportare a terra dei grossi carichi dalla Stazione Spaziale Internazionale sono disponibili soltanto delle capsule e su una di queste capsule dovrebbe fare a breve un viaggio un robot molto conosciuto della Stazione Spaziale. Di che si tratta Veronica? Dico solo una cosa al volo, scusa Veronica. Se volete vedere uno di questi 747 SCA lo potete trovare a Houston, al Johnson Space Center. Se invece volete vedere l'Enterprise esiste ancora ed è a New York sulla porta aerei Oddio Intrepid o sul molo di New York ed è anche questa visitabile. Quindi sono ancora, almeno non volano più, però sono perfettamente visitabili. Quindi o se siete in Texas o se siete a New York che magari vi può anche capitare magari più probabilmente di andare a fare un turno a New York potete visitarli. Vai pure, vero scusa. Parlavamo di Robonaut che tornerà a Terra perché dunque che cos'è innanzitutto Robonaut? Dicevi tu Paolo che è molto conosciuto ma in realtà solo per fama perché è stato usato pochissimo sulla Stazione Spaziale. Robonaut è questo robot umanoide un po' più grande di una figura umana che è stato lanciato sulla Stazione Spaziale nel 2011 ma nel 2011 è stato portato a bordo solamente la parte superiore quindi il torso, le due braccia e la testa. Questo robot nel suo complesso ha lo scopo di dare una mano agli astronauti in particolare nei lavori più pericolosi soprattutto al di fuori della Stazione Spaziale però comunque può dare una mano anche all'interno infatti questa prima parte è stata portata dentro la Stazione Spaziale per testarlo vedere se funziona vedere se effettivamente può fare quello che gli viene richiesto. Infatti è stato utilizzato qualche volta non così spesso comunque gli astronauti sono riusciti a settarlo bene e a farsi aiutare in qualche lavoro manuale perché oltre alle braccia ha anche proprio queste mani con le dita che possono prendere cose possono insomma lavorare quasi come fosse un essere umano. Dunque è rimasto a bordo della stazione è venuto usato un po' è stato usato un po' e nel 2014 la NASA ha pensato di aveva pronte fondamentalmente le gambe quindi la parte sottostante sottostante sia le braccia che le gambe sono simili agli arti umani ma hanno anche la possibilità di torcersi nell'altro modo quindi il gomito e il ginocchio possono anche andare all'indietro come i fenicotteri questo perché proprio è stato pensato proprio per l'utilizzo fuori dalla stazione spaziale dove può agganciarsi alle maniglie dove già si agganciano attualmente gli astronauti per le EVA però potrebbe farlo in maniera più veloce più efficace e insomma poi essendo un robot ovviamente ha molti meno problemi ad essere esposto fuori nell'ambiente spaziale quindi nel 2014 arrivano sulla stazione spaziale le gambe e NASA chiede agli astronauti di agganciarle al torso perché tanto vi ci vorranno solamente una ventina di ore astronauta invece non è proprio così perché non è che semplicemente agganciano le gambe al torso e tutto funziona no dovevano aggiungere dei sensori nuovi dovevano aggiungere dell'hardware nuovo fare gli agganci dei cavi tra il torso e le gambe e poi alla fine agganciare e chiudere il tutto e infatti ci sono volute 40 ore astronauta per fare tutto questo il doppio di quello che pensava la NASA nonostante questo l'installazione non è andata a buon fine a terra non veniva ricevuta la telemetria i cavi si staccavano i sensori non funzionavano insomma un macello robonauta non era operativo si cerca di capire perché cosa è successo cosa non è successo non non si capisce non ce la si fa poi le ore astronauta costano parecchio quindi se la cosa funzionava ok si andava via lisci se c'è anche da perdere tempo per riuscire a capire cosa funziona cosa no insomma si cerca di limitare il più possibile questo tempo e comunque sempre a bordo della stazione spaziale perché per farlo tornare indietro a terra è molto complicato è un affare appunto poco più grande di un essere umano bisogna trovare spazio all'interno delle navette bisogna organizzarsi in maniera da avere una navetta disponibile riportarla a terra è complicato quindi si cerca di fare tutto il possibile sulla stazione spaziale gli astronauti hanno supporto dal team di terra e cercano di metterlo a posto insomma non si capisce che problema abbia nel 2016 quindi due anni dopo si tira fuori di nuovo robonaut dal suo sacchettone che avevamo visto nel modulo destiny della stazione spaziale e lo si apre insomma si vuole capire una volta per tutti che problema ha e finalmente si è capito si è capito che il problema erano che i circuiti del robot non erano stati correttamente messi a terra quindi nel momento in cui veniva acceso la corrente elettrica per forza erano nello spazio scusa dai e la corrente elettrica andava ovunque cercava una via di fuga dappertutto e questo ha causato il fatto che andava ad alimentare troppo alcune componenti troppo poco altre componenti e insomma ha degradato la struttura pian pianino si è fatto un ultimo tentativo proprio per il rotto della cuffia si è cercato di metterlo a posto in qualche modo e gli astronauti dovevano togliere una parte dove c'erano i circuiti abbastanza sensibili del robot ma quella parte lì e su quella parte lì il come si chiama il collante ormai era praticamente diventato parte della scocca perché da anni che è su e quindi era impossibile grattarlo via quindi finalmente nel 2018 si è deciso e si è trovato posto su una navetta che sarà crs14 per portarlo a terra nei laboratori crs14 è una dragon partirà ad aprile e si staccherà dalla stazione spaziale un mese dopo quindi a maggio tornerà nei laboratori e questo robonaut si cercherà di metterlo a posto a terra più facilmente e poi si spera di poterlo rimandare sulla stazione perché appunto riuscire adesso come adesso nasa non è sicura di quando ci sarà spazio a bordo di una navetta che tornerà sulla stazione perché comunque sono insomma piene di vettovaglie di acqua di carburante c'è molta altra cosa più urgente da portare sulla ISS prima di robonaut però io sinceramente lo spero vivamente perché voglio vedere come funziona questo ci sono dei video se cercate su youtube di robonaut che con le simulazioni di questo umano fuori dalla stazione ma quando si aggancia alle manopole alle maniglie sembra un ragno fa super impressione non è più non è più un essere umano diventa una cosa completamente impressionante quindi veramente scusate creepy come si dice in inglese ancora una volta però anche questa storia fa capire magari una cosa che una feature una caratteristica dello space shuttle che delle volte passa in secondo piano era la capacità di riportare a terra anche del materiale non solo portarlo nello spazio è andato in pensione lo shuttle portare a terra un carico come robonaut era impensabile cioè quindi lo si buttava se bisognava liberare spazio ma cosa importante è riportarlo a terra per poter studiare questi inconvenienti e poter progettare magari qualcosa di migliore non era possibile poi grazie ad esempio a dragon che ha un bellissimo ha tanto spazio volendo per questa cosa possiamo riuscire a fare anche questa queste piccoli rientri di materiale di diverso tipo magari è per questo che hanno portato su prima il torso e poi le gambe un po' perché forse non erano pronte effettivamente però anche per risparmiare spazio ma anche soprattutto perché un torso può essere già utile per valutare le capacità di un robot di questo tipo quindi la capacità di manipolare se avessero mandato le gambe avrebbero potuto compiere ben poco lavoro utile con i piedi i piedi credo che robonaut servano soprattutto per ancorarsi e che l'attività principale la svolga con le mani quindi tra l'altro se andate a vedere anche un po' in giro i vari video di robonaut come dice veronica potete vederlo in diverse diciamo configurazioni non solo con gambe ma anche con ruote con altri gadget non so magari per impieghi sulla luna su marte si come il nonno in cariola insomma robonaut esatto sul rover quindi prima il torso esatto e poi i gadget magari erano in via di sviluppo pop gadget robonaut mi piace la versione pick up di robonaut la versione familiare insomma ce ne sono varie di versioni ricordo farci i giocattoli con le varie cose anche si il robonaut transformer bello no è forte che anche alcuni amici colleghi di avventure che lavoravano per columbus e si chiedessero loro stessi che fine ha fatto robonaut perché insomma era una cosa abbastanza rivoluzionaria poi a un certo punto non se ne è più sentito parlare e nemmeno loro sapevano perché era credo non so perché parlo di columbus però dico gente che lavorava per la ISS a terra a un certo punto non ha più saputo niente di robonaut sì diciamo che appunto c'era molta molta discussione molta curiosità ma insomma lo si è visto al lavoro molto poco e ricordiamo anche per esempio che durante la sua missione Samantha Cristoforetti non ha fatto la classica foto accanto a robonaut con i pugni chiusi come hanno fatto altri astronauti no bravo bella osservazione Paolo ecco una delle cose con cui il robonaut andava per la maggiore era il selfie quindi mi sa che non l'ha neanche guardato Samantha per farsi una foto insomma perché lei lavora non come gli altri non come i robot che stanno a far niente tutto il giorno e invece c'è un robot di cui si erano perse le tracce un robot della NASA in orbita intorno alla Terra e che è stato ritrovato da un radioamatore ci sono degli sviluppi Veronica? ci sono degli sviluppi io non pensavo che fosse così interessante la storia di Image e la sua epopea infatti l'ho messa lì un po' come notiziola così e invece andando a leggermi tutti gli sviluppi che ci sono stati ho detto no devo troppo parlarne l'epopea moderna di Image che inizia l'8 gennaio di quest'anno con il lancio di Zuma che non c'entra assolutamente niente con Image che è questa sonda della NASA però inizia qui perché Zuma sapete che è stato lanciato da un Falcon 9 ed era questo payload ne avevamo parlato anche particolare non si sapeva niente probabilmente militare probabilmente no non si sa l'unica cosa che si sapeva è che era stato commissionato dalla Northrop Grumman che è la stessa azienda che sta lavorando per il James Webb Space Telescope e non si sapeva altro comunque vediamo il lancio il lancio è andato bene sembra sia andato bene poi ad un certo punto sapete quando ci sono i lanci militari non fanno vedere altro quindi a posto così però dal giorno dopo su internet iniziano a girare voci che pare che questo zoom non sia stato inserito in orbita correttamente altri dicono che ma forse pare che non sia stata ricevuta la telemetria quindi può essere che sia andato distrutto altri ancora che dicono no no l'hanno messo in orbita correttamente ma mettono in giro voci loro che è andato distrutto perché deve essere una cosa nascosta deve essere insomma ha creato un po' di hype questo lancio tanto che alcuni astronomi amatoriali si sono messi con i loro telescopi a cercare questo satellite insomma vediamo se è veramente andato in orbita oppure no vediamo se riusciamo a beccarlo nella volta celeste a ricevere qualche dato tra questi c'è stato Scott Tilly che il qualche giorno due settimane dopo il lancio si è messo a cercarlo e insomma qualcosa riceve riesce a vedere qualcosa riceve però vede i segnali e no questo non è Zuma c'è qualcosa che non va secondo me è qualcos'altro insomma parte la ricerca di cosa potrebbe essere e viene fuori che potrebbe essere questa sonda image questa sonda della NASA lanciata nel 2000 di cui si sono perse le tracce a partire dal 2004 2005 la NASA viene a sapere di questa scoperta e inizia anche lei a mettersi in contatto insomma cercare questo questo satellite con i dati che gli sono stati rivelati da Scott Tilly effettivamente confermano si si dicono questa è image che era questa sonda allora l'acronimo è imager for magnetopause to aurora global exploration era questa specie di telescopio che aveva lo scopo di dare una visione globale di studiare le particelle cariche catturate dal campo magnetico terrestre e quindi di capire meglio l'interazione della nostra magnetosfera con le tempeste solari però non localmente ma a più ampio raggio e infatti leggevo che questo tipo di missione non è più stata reiterata era unica nel suo genere e si sono persi i contatti di questa sonda nel 2004 insomma la nasa conferma che effettivamente sì è stata trovata e quindi si mettono in azione per riuscire a riprendere i contatti dunque da qui iniziano inizia il mistero facciamo un passo indietro nel 2004 per capire come mai si erano perse le tracce ad un certo punto questa sonda nel 2004 ha avuto un reboot quindi si è resettata e non si sa perché non si riusciva più a mettersi in contatto con lei non si sa perché dopo qualche giorno la nasa è riuscita a mettersi in contatto con lei ma con il sistema principale di alimentazione della sonda che non funzionava bene voi sapete che le sonde la maggior parte hanno credo tutte ormai hanno questo sistema principale che le fa funzionare che le tiene in vita che le alimenta e poi hanno sempre il sistema di backup per le parti critiche perché se qualcosa non funziona con tutto quello che costano e con il tipo di missioni che fanno perlomeno ci si può rivolgere al lato B che è il sistema di backup si chiamano lato A e lato B senza alcuni insomma senza creare problemi alla missione della sonda quindi erano in contatto con il lato A a un certo punto nel 2004 c'è questo reboot si rimettono in contatto quest'anno aspetta che recupero qualche informazione perché ne sono successe una dietro l'altra esatto si rimettono in contatto quest'anno quindi il 2 febbraio dopo che Scott Tilley ha dato loro le indicazioni e scoprono che la sonda è in funzione con il lato B però in teoria da quel reboot che c'è stato lei era in funzione con il lato A quindi non si capisce che cosa sia successo nel frattempo in questi 13 anni bene allora la NASA continua insomma a cercare di di capire che cosa succede continua a tenersi a tenere il contatto con questa sonda e vorrebbe comunicare solo che gli strumenti di questa sonda sono vecchi di una ventina d'anni perché se pensate che è stata lanciata nel 2000 siamo nel 2018 ma comunque gli strumenti sono stati costruiti mesi o anni prima del lancio quindi sono abbastanza vetusti e al momento non ci sono macchine moderne in grado di far funzionare quel software che serve per mettersi in contatto con la sonda allora il team della NASA inizia ad andare alla ricerca di computer adatti allo scopo riesce a trovarlo vede che comunque questa cosa è interessante quindi passa tutto il progetto ad un team del Johns Hopkins in Maryland e questi cominciano a lavorare si recuperano i contatti con la sonda perché i segnali dalla sonda vanno e vengono riescono a tenerli per qualche giorno poi ad un certo punto basta sparisce poi la recuperano poi sparisce nel frattempo la NASA sta cercando appunto di recuperare l'hardware adatto per far funzionare tutta questa cosa per mettersi in contatto essere pronta e mettersi in contatto e comunicare con la sonda nel momento in cui si ha il segnale il 4 marzo quindi all'inizio di questo mese il team incaricato il team del Johns Hopkins dice di aver recuperato quindi di nuovo il segnale della sonda però è troppo debole per connettersi NASA intanto si crea un'interfaccia con un'antenna di 18 metri che è presente a White Sands in New Messico quindi si sono veramente dati da fare per recuperare questo aggeggio in modo da poterla beccare quanto prima ma nel frattempo dai dati che ricevono riescono a vedere che tutte le batterie sono cariche completamente e che il sistema la sonda è in buono stato e stiamo parlando di una sonda di cui abbiamo perso i contatti 18 anni fa cioè è qualcosa di stranissimo comunque adesso si sta cercando di capire insomma come riuscire a recuperarla c'è qua già qualche indizio che ci fa capire come mai il segnale va e viene perché quando il segnale di image inizia a indebolirsi si è notato un pattern che è collegabile all'ultimo periodo di rotazione della sonda quindi è probabile che l'asse di rotazione si sia modificata in maniera che l'antenna non sia rivolta sempre verso terra un colpo sì e un colpo no quindi stia girando un po' in questo modo al momento siamo arrivati a questo punto e abbiamo quindi dei dei misteri da risolvere intanto si deve cercare di capire come mai la sonda sia tornata a lavorare e con il sistema opposto rispetto a quello all'ultimo che si era provato a far funzionare c'è da capire la causa del degrado di questo segnale e c'è da capire se il degrado di questo segnale di quest'anno è da attribuirsi la causa sia da attribuirsi sempre a quello del 2004 o se nel 2004 ci sia stato qualcosa di completamente diverso e magari però insomma si può recuperare adesso bisogna cercare di capire sarebbe anche interessante vedere se nel momento in cui si riesce a risettare se si può recuperare la missione questo sarebbe non so se sia mai successo notavi che è incredibile che dopo tanti anni le batterie siano ancora cariche la sonda sia in un buono stato di salute nonostante quanto sia accaduto e non per fare nomi ma Zuma invece si è rotto molto prima non si sa magari è veramente in orbita però ci nascondono la verità la verità è là fuori sì insomma è una vicenda che appassiona molto queste storie di recupero di vecchie missioni specialmente missioni date per perse ormai nessuno si aspettava di riuscire a riottenere i contatti con image sono sempre appassionanti e speriamo di poterle seguire con altri sviluppi non solo per capire cosa è accaduto in questi anni alla sonda ma anche per vedere se riusciranno a renderla nuovamente operativa e quindi a continuare la produttività scientifica di questa sonda che è stata unica in quegli anni cioè è stata la prima a fare osservazioni globale dei fenomeni delle aurore porari e studiare questi fenomeni e in generale il campo magnetico terrestre le interazioni con il mezzo interplanetario e siamo arrivati all'apogeo di questa nostra missione cioè il momento di mezzo della puntata tra le notizie e le rubriche ed è una buona occasione per ricordare che Astronauticas il podcast che state ascoltando è un'iniziativa di ISA l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio è un'associazione culturale per la divulgazione dell'astronautica delle tematiche spaziali un'associazione costituita da volontari e ricominciamo a ringraziare gli articolisti cioè quei volontari che scrivono le notizie che noi commentiamo in Astronauticas in questo episodio in particolare ringrazio Simone Montrasio per la notizia su Black non ricordo più come si chiama il futuro Rock Black Ice ecco forse non l'avevo detto il nome proposto per lo spazio plano di Stratolounge dovrebbe essere Black Ice di questo studio concettuale che stanno facendo ringraziamo Simone Montrasio per l'articolo su Black Ice e tutti gli altri articolisti che pubblicano su astronautinews.it queste notizie ringraziamo voi che ci state seguendo non soltanto con Astronauticas ma con tutte le nostre altre iniziative e se volete sostenerci ci sono diversi modi innanzitutto potete fare una donazione in denaro iscrivendovi a ISAA alla nostra associazione secondo le istruzioni che potete trovare sul sito isaa.it oppure potete fare delle donazioni una tanto ricorrenti al nostro podcast seguendo i pulsanti di donazione sul sito astronauticas.it non è necessario fare donazioni in denaro per sostenerci potete anche per esempio condividere i nostri contenuti condividere sui vostri social preferiti gli articoli di Astronauti News le puntate del nostro podcast i video del nostro canale YouTube e potete anche questo è anche molto utile recensire e valutare Astronauticas sul vostro aggregatore di podcast preferito sulla piattaforma di podcasting su cui trovate quelli che seguite di più questo è davvero molto utile lasciare una recensione o una valutazione il vostro numero di stelline questo è importante per noi perché il nostro scopo è fare conoscere l'astronautica e le attività spaziali e con queste vostre condivisioni potreste creare per esempio l'esposizione accidentale dei vostri amici a queste tematiche potrebbero interessarsi anche loro e a loro volta a seguirci quindi vi ringraziamo e vi incoraggiamo a condividere i nostri contenuti ad aiutarci in questo modo che è veramente molto utile vi incoraggiamo anche a venirci a trovare tra un mesetto perché ormai siamo a un mese dall'inizio di Astronauticon che è la convention che a cadenza annuale o biannuale la nostra associazione organizza per incontrarci per far sì che alcuni utenti che frequentano il nostro forum possano fare delle presentazioni ovviamente a tema astronautico aperte per il pubblico e liberamente guardabili veniteci a trovare perché noi ci saremo e visto che comunque la data si avvicina e vi invitiamo anche a consultare forumastronautico.it nella sezione iniziative dell'associazione Astronauticon 9 oppure scusa Ricky il sito astronauticon.it esatto dove potete trovare delle informazioni utili per poter organizzare la vostra trasferta all'ECO in particolare le convenzioni che ci sono con gli alberghi di zona perché se volete magari per notare visto che la convention si svolge durante il weekend si comincia venerdì sera probabilmente il programma ancora in via di definizione precisa però sarà una due giorni più il venerdì prima quindi venerdì notte venerdì sera sabato e domenica quindi se magari volete per notare direttamente all'ECO perché venite da lontano potete farlo in alcuni alberghi della zona che hanno una convenzione con la nostra convention quindi potete trovare sul sito le informazioni per accedere a questa convenzione ma soprattutto anche se volete partecipare ai pranzi che organizziamo durante appunto perché non si parla anche ma si mangia anche insieme mangiate spaziali anzi forse anche il momento del pranzo è sempre stato abbastanza apprezzato da tutti noi la famosa convention così parallela la gastronauticon che è un ruolo cioè un momento di aggregazione in cui si possono anche confrontarsi con altre persone e stringere anche amicizie magari con persone che se frequentate il forum avete solo potuto vedere cioè avete potuto solo leggere ma li potete anche incontrare comunque visto che soprattutto per quanto riguarda i pranzi normalmente andiamo in una struttura che è vicinissima al planetario di Lecco quindi a due passi per comodità però il problema è che questa struttura è piccola quindi i posti sono limitati e se volete prenotarvi per il pranzo questo ve lo consiglio pensateci e date la vostra eventuale presenza il prima possibile per non dover rischiare poi magari di non trovare posto e magari mettervi a girare a zonzo per lecco per trovare da mangiare perdendo tempo la domenica quando tutti i ristoranti sono chiusi tranne quello con cui abbiamo la convenzione quindi rimanete anche senza mangiare se non prenotate e poi invece per quanto riguardi non so le cene della sera se ve lo state chiedendo normalmente non organizziamo niente salvo casi particolarissimi quindi la sera siete liberi di fare quello che volete però ci tenevamo a sottolineare questa cosa del pranzo che spesso ci dispiace magari quando siamo là che persone dicono dicono non ne sapevo niente o rimangono fuori ma se vi muovete tempestivamente il modo di trovare una sistemazione c'è adesso visto che manca un mese inizieremo anche noi a breve a pubblicare a spammarvi sui social sul forum insomma non dimenticherete facilmente di astronauti con nove che ricordiamo è un evento completamente gratuito e che si svolgerà da venerdì 13 a domenica 15 aprile 2018 quindi avremo occasione di riparlare come dicevamo lo facciamo a Lecco al planetario di Lecco grazie anche alla collaborazione con il gruppo Astrofili di VSpace che è stato da sempre il nostro partner per questa manifestazione ci danno sempre una mano grandissima contribuiscono tantissimo a questa cosa quindi avrete anche la possibilità di visitare il planetario di Lecco che è anche dotato di un mini museo di tante curiosità tra cui anche l'abbiamo citato la settimana scorsa una replica in scala 1 a 1 di Spirit quindi potete vedere anche oggetti di questo tipo e sempre l'hanno sempre fatto se le condizioni meteo lo permettono alla sera fanno anche delle osservazioni con i telescopi o anche durante il giorno hanno anche i telescopi solari quindi c'è anche la possibilità di poter osservare il sole con degli strumenti adeguati per poter osservare la nostra stella quindi venite tranquilli che se siete perlomeno un po' interessati alla materia vi divertirete assolutamente possiamo allora proseguire passando alle rubriche anzi all'unica rubrica di questa puntata ci sono le altre rubriche più brevi ma insomma cominciamo con le storie di nonno Apollo il lancio del Falcon Heavy avvenuto il 6 febbraio del 2018 è stato un importante test tecnologico per SpaceX ma si è parlato soprattutto del payload di questa missione missione esclusivamente di test cioè la Tesla Roadster che è stata mandata a vagare nello spazio in un'orbita eliocentrica nel sistema solare dalle parti verso l'orbita del pianeta Marte e si è detto anche che la Tesla Roadster questa automobile elettrica non è stata anche la prima auto elettrica a essere mandata nello spazio però è un po' difficile stabilire quale sia il suo posto esatto nella classifica delle auto elettriche mandate nello spazio specialmente se si indaga bene se si cerca di capire bene come sono state le auto elettriche precedenti e quali caratteristiche avevano ma proviamo a fare un riassunto di tutte le missioni di auto elettriche mandate nello spazio per cercare di collocare la Tesla Roadster in questa possibile classifica si è ricordato proprio nei giorni del lancio del Falcon Heavy si sono ricordati i lunar rover delle missioni Apollo cioè le automobili elettriche con un equipaggio di due astronauti ciascuna che nelle tre ultime missioni Apollo hanno consentito di esplorare le zone della superficie lunare vicino ai luoghi di atterraggio quindi ci sono stati tre lunar rover quello di Apollo 15 lanciato nell'agosto del 1971 Apollo 16 dell'aprile del 1972 e Apollo 17 l'ultimo lunar rover nel dicembre del 1972 in quegli anni anche i sovietici mandavano sulla luna delle automobili elettriche ma senza equipaggio ricordiamo che lunar rover Apollo erano veicoli pilotati quindi c'erano i due astronauti di equipaggio mentre i veicoli sovietici con ruote il Lunocod 1 e il Lunocod 2 erano dei robot automatici comandati da terra in tempo reale attraverso le immagini che arrivavano dalle telecamere che inquadravano la superficie lunare dai Lunocod e poi comandati via raggio e dal centro di controllo a terra quindi parliamo delle due missioni Lunocod 1 atterrato sulla superficie lunare nel novembre del 1970 e l'unocod 2 nel gennaio del 1973 non sono le uniche auto elettriche mandate nello spazio queste che vi ho parlato di cui vi ho parlato le altre sono state mandate alcuni decenni dopo sul pianeta Marte una che ha fatto molta sensazione in quegli anni è stato il robot il rover Sojourner nella missione Mars Pathfinder era atterrata su Marte il 4 luglio del 1997 un piccolo rover delle dimensioni di qualche scatola da scarpe che riuscì a muoversi per la prima volta sulla superficie di Marte con delle ruote sono più noti perché sono rimasti attivi diversi anni e hanno trasmesso immagini e dati spettacolari anche i due rover della NASA nel programma Mars Exploration Rover cioè i robot i rover Spirit e Opportunity atterrati su Marte rispettivamente il 4 di gennaio e il 25 di gennaio del 2004 Opportunity è ancora in funzione mentre Spirit si è fermato ha smesso di funzionare diversi anni fa ma su Marte insieme con Opportunity abbiamo un altro rover che si sta muovendo su ruote quindi un'auto a propulsione elettrica che è atturata su Marte il 6 agosto del 2012 quindi proviamo a fare una somma abbiamo tre una rover sulla Luna i due Lunokhod quindi cinque rover in tutto atterrati sulla Luna più i quattro rover atterrati su Marte abbiamo un totale di nove auto elettriche mandate sullo spazio e quindi la Tesla Roadster diventerebbe la decima c'è però un'altra classifica che possiamo fare un'altra distinzione che possiamo fare tra veicoli pilotati e non pilotati nel caso della storia delle auto elettriche mandate nello spazio per delle missioni scientifiche soltanto i tre rover Apollo avevano un equipaggio quindi un essere umano che poteva controllarli e gli altri 6 mandati sulla Luna e su Marte invece erano tutti dei veicoli automatici è più difficile collocare la Tesla Roadster perché pur essendo un'automobile che viene comandata da un pilota da un guidatore quando si trova sulla Terra nello spazio è stata mandata come veicolo automatico senza equipaggio o meglio aveva come equipaggio un manichino Starman che indossava un prototipo di tuta spaziale che poi sarà utilizzata da SpaceX quindi aveva un po' le caratteristiche delle due classi di veicoli che abbiamo citato cioè è un po' veicolo con equipaggio e un po' veicolo senza equipaggio perché ha volato senza esseri umani a bordo ma in realtà è un veicolo man rated no è un veicolo come si dice un man ma man rated man rated si 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 è un tormentone questo del man rating che ci portiamo avanti in Astronauticast ma è il caso di ricordarlo in questa situazione in cui non sappiamo bene come collocare la Tesla Roadster anche perché c'è la complicazione dei Lunokod che è vero che erano dei veicoli automatici ma venivano teleguidati in tempo reale con il dal controllo missione a terra quindi per riassumere è la decima auto elettrica la Tesla Roadster mandata nello spazio ma poi se volete classificarla bene come veicolo con equipaggio senza equipaggio insomma perdeteci qualche settimana a discutere e mi sembra interessante ricordare questi precedenti storici anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo e possiamo continuare con i link della settimana perché dicevamo che vedo un link che è stato aggiunto rimango un po' sorpreso perché al momento di iniziare questa puntata non avevo visto questo link di che cosa si tratta Ricci è una galleria di fotografica sì visto che fra un po' sta per decollare la prossima Soyuz la MS-08 come consueto su Flickr vi consiglio di seguire sia la galleria di NASA HQ sia quella del Johnson Space Center perché lì verranno raccolte tutte le immagini diciamo più una selezione di immagini tipicamente adesso in questo periodo che si stanno avvicinando al lancio potete vedere gli astronauti che stanno facendo gli ultimi test con le loro tutte socolo oppure mentre sono impegnati a passare gli ultimi esami di certificazione ma lì troverete ad esempio quando la Soyuz sarà portata in rampa la preparazione della Soyuz al lancio le immagini del lancio e qualche immagine in orbita la prossima Soyuz sarà occupata da Oleg Artemiev che ha già una sua missione al suo attivo quella della Soyuz TMA-12M e ha già fatto due EVA Oleg tra l'altro nella sua carriera nel suo curriculum di preparazione a diventare un astronauta ha anche partecipato al progetto Mars 500 non al Mars 500 vero e proprio dove ad esempio c'era il nostro amico Diego Urbina ma ha fatto le due simulazioni precedenti più corte quelle che una prima simulazione di 15 giorni e una seconda simulazione di 105 giorni quindi ha fatto parte del progetto ma diciamo non ha partecipato alla fase finale poi a parte lui ci sono due americani il primo è Andre Fustel che ha fatto due missioni la prima su STS-125 che è stata la quinta e ultima missione di servizio verso il telescopio spaziale Hubble Fustel ha avuto anche l'opportunità di fare un IVA in questa missione quindi ha toccato con mano l'Hubble Space Telescope probabilmente sarà uno degli ultimi uomini a aver toccato il telescopio spaziale perché non sono programmate ulteriori missioni di servizio e l'altra missione STS-134 aveva come compagno di shuttle il nostro Roberto Vittori l'ultimo membro dell'equipaggio invece è Richard Arnold che ha partecipato a STS-119 e anche lui in quella missione ha fatto due EVA visto che anche Artemiev non l'ho detto ha fatto due EVA quindi sono tutti veterani di attività extraveicolari chissà se nel corso della loro missione sulla ISS avranno altre opportunità per uscire all'esterno della stazione spaziale grazie Ricky di questo link dell'ultima ora e abbiamo parlato dei rover di spiriti opportuniti e curiositi che si stanno muovendo e stanno studiando Marte ma c'è qualcuno che esplora Marte anche per gioco Veronica che si tratta io avevo già messo un link simile qualche settimana fa perché però lo rimetto oggi perché è il 15 marzo ed è non ci sta dentro Veronica è uscito ufficialmente Surviving Mars e i ragazzi della Paradox Interactive stanno facendo una maratona da oggi tipo alle 3 del pomeriggio adesso sono le 10 e mezza e sono ancora lì che giocano si stanno dando i turni per mostrare come funziona questo gioco mi ha fatto particolarmente special sono rimasta perché vedo che stanno facendo i turni davvero e c'è questa ragazza con i cartelli Fuxia che è lì da quando hanno iniziato ha energia per tutti anche io quando avevo 15 16 17 17 anni facevo le maratone di videogiochi perché non c'avevo niente da fare no maledetti della Paradox Interactive e però ti dirò di più visto che è sera e che sono che è arrivato il turno di notte è arrivata questa morettona con una magliettina carina insomma andatevi a vedere questa maratona la morettona con la maratona la maratona della moretona ma insomma ma su Marte cosa stanno facendo hanno dei rover cosa fanno ma no stanno facendo le colonie stanno costruendo guarda adesso sta mettendo giù la cupola e poi all'interno ci costruiscono la città devono collegarla con i vari tubi agli alimentatori esterni diciamo che è un tipo un sim city però su Marte un gestionale con ambientazione marziana esatto peccato che sia un giocatore solo però uno gioca e gli altri guardano e gli dicono cosa fare è il grande fratello marziano praticamente bene questo era l'ultimo link di questa settimana ma questa settimana se non ricordo male abbiamo un'agenda molto ricca di appuntamenti la nostra astronautica agenda sì sto già sudando allora andiamo domani cominci scusa comincia la maratona di eventi dell'agenda di Ricky poi ti daremo il cambio se stramazzi Veronica di sicuro dammi il cambio ti passo il testimone allora andiamo a sabato 17 lancio di un lunga marcia 2D con un satellite militare quindi anzi un satellite probabilmente militare di cui non si sa niente già si sa poco dei lanci cinesi figuriamoci con un lancio militare probabilmente quello che scopriremo se qualche parte del ferry precipita in testa a qualche contadino nei paraggi poi abbiamo sempre il 17 marzo l'evento Rocket Dead perché è la festa del papà il 17 marzo e l'associazione scienzi impresa propone una giornata dedicata alla costruzione di razzi ad acqua e alla fisica solare con una breve introduzione sull'esplorazione spaziale dove si fa questa cosa qui a Roma in via Lemonia 209 che è un museo vero che tu sappia è un'associazione aspetta che mi cogli in prepara è casa di qualcuno non è casa di qualcuno associazione scienzi impresa area degli acquedotti infopoint via Lemonia ok sarà una zona in cui sarà possibile anche lanciare dei razzi ad acqua ingresso parco zona pista di patinaggio quindi sì bene sì è un'area verde dove c'è questa cosa sono molto divertenti i razzi ad acqua perché così sono anche facilmente autocostruibili e dà un'idea di quello che può essere il così il concetto base di un lancio spaziale cioè insomma che tutto il razzo di fatto è riempito di propellente grazie a questo propellente espulso fuori ad alta velocità per azione e reazione il razzo comincia a salire verso l'alto fino all'infinito ed oltre andiamo a lunedì 19 contatto Aris con una scuola australiana però via Telebridge con Victor no allora però è australiana anche la stazione Telebridge forse chissà non lo so magari per l'Australia è grande quindi non è detto che la scuola sia contattabile direttamente dal sito di Tempest Hall che è la Tempest Hall Valley quindi un contatto Aris se siete interessati invece alla sera dalle 21 alle 22 al planetario di Lecco quindi dai nostri amici dell'associazione del gruppo Deep Space c'è una conferenza che si chiama Scienza istruzioni per l'uso come non cadere nei tranelli della comunicazione vuoi dire qualcosa di più vero? no non posso dire niente perché quando Deep Space fa il programma mettono solamente i titoli e questo è bello perché mi incuriosisce un sacco però è curioso che tu non possa dire niente su una conferenza sui tranelli della comunicazione no comunque se siete in zona andate a visitare i nostri amici al planetario andiamo al 20 martedì 20 con un lancio Electron da come si chiama sto razzo si chiama forse still testing still testing no dai non si chiamava it's business time esatto ma penso che l'abbiano spostato più avanti sai questo mi è rimasto dentro 14 Cubsat per il programma Venture Class io non ne sarei così sicura che c'è perché non è it's business time perché gli ho cambiato il nome a quello ma che gli stai facendo la iettatura non ho capito comunque è una buona occasione per ricordarvi che questa azienda è anche insomma molto così nuova esatto innovativa sta comunque andando avanti con i suoi progetti non è stato solo così un lancio di prova ma hanno anche un business da portare avanti quindi questo piccolo lanciatore qui c'è gente che lavora esatto questo piccolo lanciatore leggero comunque ad esempio in questa configurazione può lanciare 14 Cubsat che è esattamente il target il profilo di missione che si adatta a questo tipo di razzetto poi la sera alle 21 al planetario civico di Milano c'è una conferenza di un nostro amico sconosciuto di Paolo Amoroso che si intitola Il cielo in tasca di cosa si tratta Paolo? il titolo esatto è Il cielo in tasca conoscere l'astronomia e lo spazio con le app per smartphone spiegherò alcuni concetti di astronomia di base per imparare a usare a muoversi a conoscere autonomamente queste app per smartphone per l'astronomia e lo spazio per esempio per usare le applicazioni di planetario per osservare il cielo oppure le app per prevedere i passaggi dei satelliti artificiali della stazione spaziale per osservarle insomma cose di questo tipo bello 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 carino interessante bravo Paolo passiamo a mercoledì 21 c'è il lancio della Soyuz MS-08 che vi ho introdotto parlando del link della settimana e avverrà quando in Italia saranno le 18.44 quindi è anche un orario relativamente comodo se volete vedere questo lancio poi sempre al planetario di Lecco una nuova conferenza molto attiva anche Deep Space con una conferenza dalle 21 alle 22 che si intitola la fantascienza cinematografica italiana non c'era già stata una conferenza con questo titolo è stata spostata vero o mi ricordo male io no no c'è stata la conferenza con questo titolo non so se l'hanno riproposta o se magari l'hanno magari potrebbero ve l'ho riproposta comunque può essere devo dirti che effettivamente non ho controllato alla precisione l'agenda questa sera prima di dartela in pasto quindi potrebbe esserci qualcosa ci potrebbe essere il titolo in oggetto perfetto alle 22 e 42 sempre del 21 di marzo del 2018 ci sarà un lancio di un Ariane 5 quindi un lanciatore europeo per antonomasia e con a Boris due satelliti il Superbeard 8 e ILAS 4 sono satelliti per telecomunicazione Superbeard servirà al ministero della difesa giapponese mentre ILAS è stato costruito da Orbital ATK e fornirà una copertura sempre per quanto riguarda servizi di telecomunicazione l'Africa e l'America Latina e l'Europa e ho l'impressione che il pubblico a Curu si metterà l'elmetto in testa casomai vada fuori rotta ancora l'Arian 5 e casca in testa a qualcuno giovedì 22 prima della puntata del podcast numero telefono prima della puntata del podcast alla mattina al museo Leonardo da Vinci di Milano ci sarà una conferenza alle 11 che vedrà protagonisti Paolo Nespoli e Leor Torani sapete benissimo se avete seguito un po' la missione vita di Paolo Nespoli che ha fatto anche questa collaborazione con Leo che ha preparato un fumetto a tema con Paolo protagonista e parleranno proprio di questo così dell'esperienza di Paolo sulla ISS ma così ma anche con l'occhio di divertito tra di loro Ratman da qualche parte che interverrà in maniera divertita alle spiegazioni di Paolo quindi se siete di Milano potete andare tranquillamente a seguire questa cosa poi sempre giovedì una conferenza con Samantha Cristofaretti Gennady Padalca che tra l'altro adesso è andato in pensione ma è l'astronauta il cosmonauta ad avere passato più tempo cumulativo nello spazio quindi un astronauta di grandissima esperienza anche la location è molto suggestiva ne ho sentito parlare ma non ci sono mai andato che è questo labirinto delle acque che si trova in provincia di Parma mi ero sempre proposto di andarlo a vedere questo posto quindi sicuramente sarà la location ideale per parlare di un tema delicato come l'acqua perché il tema della conferenza si chiama acqua nello spazio che comunque come dice il nome non si parlava solo della mera visione dell'acqua e dello spazio ma nell'acqua così come concetto un po' più importante infatti come scrive giustamente Veronica è una conferenza che si ripropone di invitare e ragionare sull'importanza dell'acqua in ogni suo aspetto quindi sia per il rifornimento idrico sia per le catastrofe naturali sia per l'elemento della vita quindi chi meglio insomma di due astronauti che hanno potuto vedere la terra dall'alto e avere questo diciamo questo punto di riferimento privilegiato possono capire che insomma noi siamo lì e dobbiamo preservare il nostro ambiente il più possibile e l'acqua è proprio uno degli elementi più importanti che dobbiamo preservare quindi avete un sacco di cose da fare se siete a casa però avete astronauti da ascoltare nella puntata numero 24 della stagione 11 quando la sera tornerete a casa esausti dopo aver seguito tutti questi eventi della settimana potrete rilassarvi ascoltando la prossima puntata di astronautica ma tranquilli che poi il fine settimana dopo i successivi 4-5 giorni non succederà niente un po' come questa settimana che è stata un po' triste ma no dai vero scrabberanno a nastro l'arianne l'electron la lunga marcia quindi si riempirà anche la prossima settimana invece per questa puntata è tutto accendiamo il motore per il rientro nell'atmosfera e quindi concludere questa puntata ma prima di farlo salutiamo i membri dell'equipaggio che con me vi hanno intrattenuti raccontandovi le ultime novità sullo spazio salutiamo il timelapse master Riccardo Rossi ciao a tutti grazie per averci seguito e ci sentiamo la prossima settimana salutiamo anche la social queen Veronica Rimondini ciao ragazzi buona serata e buona continuazione di settimana a giovedì prossimo da Milano invece vi saluta Paolo Amoroso nonno Apollo ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it fino ad allora ad Astra Veronica corregge corregge la agenda che c'è scritto super beard con la p veramente sì ciao ciao